Ciao, oggi vi parlo di un gioco di deck building in questa scatolina compatta davvero adatto a tutti. Vi parlo di Alpaca, gioco di Christian Giove per 2-4 giocatori e una durata partita di circa mezz'ora, edito da GetOnGames. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Prima di iniziare a giocare si posiziona sul tavolo il mazzetto dei nobili, il mazzetto degli snob, poi 6 mazzetti di Alpaca marroni fra tutti quelli presenti nel mazzo e 4 mazzetti di Alpaca bianchi, anch'essi selezionati a caso. A ogni giocatore poi viene fornito lo stesso mazzetto iniziale composto da 6 cuccioli e 4 recinti in costruzione. I giocatori mescolano così le carte e pescano le prime 5 per iniziare a giocare. Nel proprio turno poi un giocatore può eseguire tutte le azioni che vuole, ma a patto che se usa la parte azione di una carta non potrà usarne l'azione di acquisto e poi potrà effettuare massimo un acquisto fra gli Alpaca nel mercato e massimo posizionare un Alpaca nei propri recinti, a patto però che abbia un nome diverso tra quelli già presenti nell'allevamento. Facciamo un esempio. Inizio a giocare l'abilità del festaiolo che dice che l'Alpaca acquistato in questo turno va nella tua mano invece che negli scarti. Lo metto quindi negli scarti. Dopodiché uso l'abilità del bibliotecario che mi permette di pescare 2 carte, quindi pesco 1 e 2 carte in questo modo. Ora decido di usare 3, 4, 5 monete per effettuare il mio acquisto. Metto tutto negli scarti. L'acquisto è il magazziniere. Il costo di acquisto, che vale anche punti vittoria a fine partita di un Alpaca, è riportato in questo cartello di legno. Ora, come ho detto, ho anche il diritto di mettere 1 Alpaca all'interno dei miei recinti. Sceglierò proprio il magazziniere che ha l'abilità che dice se sono nel recinto pesca 6 carte alla fine di ogni turno, anziché alle 5 canoniche. Metto quindi l'Alpaca qua, termina il mio turno, quindi butto tutte le carte negli scarti, pesco le prime 3 e dovrei pescarne altre 3. Non devo far altro che mescolare i miei scarti a formare un nuovo mazzo, pesco nuove 3 carte, vado a 6 come chiesto dal magazziniere anziché alle 5 canoniche e tocca al giocatore successivo. Nel momento in cui voglio mettere un Alpaca nel mio allevamento, ma non ho recinti disponibili e solo in quel caso, posso rimuovere dalla mano una carta di recinto in costruzione. In tal caso viene immediatamente generato il recinto per piazzarvi l'Alpaca. Si continua a giocare così fino a quando un giocatore non riempie il suo quarto recinto. In tal caso si termina il giro e la partita finisce, si contano così punti vittoria. Per farlo basta rimuovere i propri recinti e fare la somma di quanto riportato nei vari cartelli di legno. Neanche da dire chi ha il totale più alto in quel momento è il vincitore. Come avete visto il regolamento del gioco è davvero semplice da apprendere. Si tratta un po' delle meccaniche classiche in questo tipo di gioco, ovvero sia partire con un mazzo abbastanza debole, ma via via comprare carte sempre più potenti per accrescerne il potere d'acquisto e quindi comprare delle carte sempre più potenti, magari nannellando qualche combo. Però c'è una piccola cosa in più in questo gioco, ovvero sia la presenza di questi recinti che come avete visto sono molto determinanti soprattutto per il fine partita. Il recinto innanzitutto va costruito, avete visto, utilizzando questa specifica carta che all'inizio soprattutto quando ne avete 4 coppie nel mazzo e il mazzo è ancora sottile diciamo che vi darà abbastanza fastidio, vi limiterà il potere di acquisto. Via via che andrete avanti però si diluirà il mazzo e queste carte vi daranno meno problema. Avete però anche visto che il recinto effettivamente si può costruire solamente quando ne avete effettivo bisogno e quindi vuol dire che nel momento in cui volete piazzare un'alpaca nel recinto non deve avere il nome di nessun altro e soprattutto avere in mano questa carta. Ecco, lì va pianificato molto bene il vostro turno di piazzamento. Il consiglio principale quindi che vi do è di non accrescere troppo il vostro mazzo, cercate di tenerlo abbastanza sottile. Per far ciò ci sono un paio di piccoli accorgimenti. Il primo per esempio è di acquisire le carte snob. Le carte snob danno due di potere d'acquisto e per essere acquistate non servono dei soldi ma dovete liberarvi di due carte dalla vostra mano e quindi soprattutto nelle fasi iniziali magari potreste eliminare un paio di cuccioli per mettere questo. Il potere d'acquisto rimane uguale ma di fatto avete accorciato di una carta il vostro mazzo. L'altro consiglio è di piazzare il prima possibile carte nel vostro recinto soprattutto perché ci sono carte che sono performanti inizio partita ma mentre la partita si evolve sono via via meno interessanti quindi in quel caso piazzatela nel vostro recinto così si eliminano direttamente dal vostro mazzo. Sappiate poi che ci sono anche carte che danno interazione diretta fra i giocatori quindi non potete solo coltivare il vostro allevamento e non si coltiva un allenamento credo. In sostanza dovrete utilizzare queste carte un po' per liberarvi di carte inutili dal mazzo o un po' anche semplicemente per dar fastidio agli altri. Un esempio il chiassoso. Quando viene messo all'interno di un recinto l'altro alpaca vale 0 punti quindi potete piazzarlo da voi per fare i 6 punti del chiassoso ad esempio con un cucciolo che vale di base già 0 così non perderete niente ma se un altro giocatore ad esempio ha piazzato un alpaca king da 12 punti tam gli piazzate questo e gli dimezzate il valore. Un'altra carta di interazione diretta a discapito del nome è il pacifista ad esempio che vi chiede di regalare un alpaca dalla tua mano all'avversario per pescare 3 carte. Di fatto quindi potrete tranquillamente regalargli un cucciolo che nelle fasi centrali della partita e finali non vi servirà e voi pescherete la bellezza di 3 carte quindi vi siete liberati di una e ne pescate 3 in più. L'avversario non sarà assolutamente contento. In sostanza ci torniamo di fronte a un gioco che davvero ha tantissima rigiocabilità proprio perché le interazioni fra le varie carte sono sempre diverse in più vi costringerà automaticamente a scegliere tanti alpaca non potrete prendere una strada e percorrerla per tutta la partita perché ogni mazzetta è formato solo da 4 copie di una carta e quindi inevitabilmente tutti i vari giocatori se anche ci fosse l'alpaca più bello del mondo lo prenderanno e quindi di fatto dovrete utilizzare tutti gli altri. Questo è un buon modo per variare il vostro mazzo per sperimentare nuove strade e soprattutto per avere questo adattamento nel corso della partita. Diciamo quindi che queste idee unite alla pucciosità delle immagini rendono l'alpaca sicuramente un gioco adatto a tutti i giocatori. Se siete alle prime armi non avrete problemi a gestire anche le abilità degli alpaca saranno abbastanza intuitive ma gli altri potranno tranquillamente aiutarvi se siete giocatori esperti potrete davvero in anellare delle combo molto interessanti. Vi invito quindi a una partita e vi saluto con un ciao e alla prossima! Prima di salutarvi vi faccio notare che le carte nobili in realtà sono tutte da 12 punti non hanno abilità speciali ma hanno nomi diversi sapete che non dovete mettere nomi uguali? Ecco noi ci siamo accorti a un certo punto del perché avessero nomi diversi perché potete prendere più nobili e metterli nei vostri recinti per un sacco di punti quindi fate attenzione a non farveli soffiare da sotto al naso. Detto questo scrivetemi qua in descrizione se vi interessa questo gioco se vi ha colpito in qualche modo sarò ben lieto di leggere ricordate poi di iscrivervi ai miei canali Instagram, Telegram e qua su YouTube cliccate direttamente la campanellina così avete anche le notifiche attive e poi utilizzate i link in descrizione ci sono un sacco di offerte per voi che aiutano anche a sostenere il progetto di Censo di Minute grazie molte, ciao!